Chissà chi può essere Bene Pete, controlla tutta la casa, via! Questo giovane è la prova, è la prova vivente di questi diabolici sviluppi politici. Il pubblico, la gente comune, deve vedere, deve sapere. Esistono tradizioni di libertà da difendere e in un paese la libertà è tutto. Grazie a tutti!